I vertici ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, sono stati accolti ieri nella sala dell'Avis intercomunale Giarra Riposto, in Viale Don Minzoni a Giarre, per siglare un accordo che avrà come obiettivo la promozione della donazione del midollo osseo. Grazie a questa intesa, il Centro Raccolta Sangue promuoverà anche la donazione del midollo osseo. I volontari offriranno la modulistica e tutte le informazioni riguardanti la donazione del midollo osseo. Entro i 35 anni ci si può iscrivere nel registro dei donatori e chi vi iscritto può donare sino a 55 anni. Più sono gli iscritti maggiori sono le possibilità di trovare delle compatibilità con persone che necessitano di un trapianto affette da leucemia, trassemia, linfomi e tumori al sangue. Ieri erano presenti l'entomologo Santo Maccarrone, la responsabile dell'ATMO, Sezione di Catania Francesca Vinci, la vicepresidente regionale dell'ATMO, Anna Maria Bonanno. Per l'Avis erano presenti il segretario dell'Avis, Giore Riposto Rita Torrisi, e il vicepresidente vicario dell'Avis Giore Riposto, nonché il referente ADMO, Alfredo Magro, che ha dichiarato. Questo accordo è già in atto a livello nazionale tra l'Avis e l'ATMO. Adesso anche noi vogliamo rendere concreto questo impegno attraverso un accordo locale.